Qual è il problema per cortesia? Lei vuole scioperare! L'ho visto, mi stanno pure ballando prima! Prendetelo in barbara! Non incitatelo per cortesia! Ma che sciopero pure voi! Ma che sciopero pure voi! Ma vi prego! Ma che cosa può fare? Lei che cosa può fare? Il ballerino! Lei vuole fare il ballerino? Allora signori, chiedo scusa, questo giovane vuole fare il ballerino? Secondo voi è all'altezza di fare il ballerino? Alla passetta! Hanno detto che lei non è all'altezza di fare il ballerino! E c'è sempre quello che parte, dove arriva se parte, a chi sente soltanto la radio, cinque, cinque, cinque... E la vita, la vita, e la vita che bella, che bella, e la vita, la vita, la vita, e la vita che ripara la testa, ma sempre un gioco di festa, a chi sente soltanto la radio. ci stavo attenuare dai ballerino? Così non lo applauso! Ci stavo messo ai ballerino! Con le parola, con il parola, con il parola... Cinque, sei, sette... E la barola è fredda! 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 Ma sulla barola è fredda! E' una bucciata!